Scadeva proprio oggi, 21 novembre, il termine per la presentazione delle istanze per leggevolazioni itali, un contributo natantum destinato a cittadini e nuclei familiari residenti a San Cataldo, in possesso di certificazione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92, e intanto si pensa ai prossimi provvedimenti per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Il sindaco di San Cataldo, Giacchino Comparato, ha infatti preannunciato ulteriori sostegni economici, questa volta riferiti alle spese per le utenze elettriche e idriche e non solo. Allora, dopo i bandi per le agevolazioni della Tari, che ha appena ricordato, l'ultima sulle agevolazioni Tari per coloro che hanno una 104 articolo 3,3, nelle prossime settimane provvederemo anche a uscire un altro, un ulteriore bando, un bando per venire incontro alla popolazione sempre con un'isea inferiore a una determinata soglia per provvedere al pagamento delle utenze elettriche e delle utenze idriche. E probabilmente, anzi quasi sicuramente, anche nei confronti di chi ha degli affitti e quindi sempre legato però ad un certo reddito. Da questo punto di vista noi siamo sempre al lavoro e siamo sempre alla ricerca di nuovi strumenti per cercare di alleviare quella che è una situazione economica che ovviamente, come in tutte le città d'Italia, si sta facendo drammatica. Per cui laddove dovessero esserci ulteriori risorse che riusciremo a recuperare, senz'altro verranno messe a disposizione. Intanto, per quanto riguarda le scuole, in arrivo altri fondi che verranno destinati all'asilo Belvedere. Dopo gli interventi che abbiamo fatto nella Corso Unità d'Italia, siamo riusciti a restituire alla città, con un lavoro che già era iniziato presso la precedente amministrazione, anche l'asilo Lambruschini. È una scuola storica per la città di San Cataldo e siamo felici di averla riconsegnata ai nostri bambini. Tra l'altro, proprio la scorsa settimana, siamo stati notiziati che arriveranno 500 mila euro che serviranno per l'asilo Belvedere, quindi un ulteriore intervento che andremo a fare sull'asilo Belvedere con fondi a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, ma tanti altri sono stati gli interventi sulle scuole che in quest'ultimo anno abbiamo messo in essere nell'ordinaria amministrazione.